Parla sempre degli incontri di Graviano con Dell'Utri, ma non dice mai se Graviano incontrano Berlusconi. Perché non erano questi gli accordi? Con Graviano. Cioè lei all'esterno poteva raccontare delle cose... Senza tirare in ballo lui. Perché adesso il processo mafia, andrà anche da streggista, Graviano dice di aver incontrato tre volte Berlusconi. Adesso lo sta tirando in ballo. Adesso lei cosa dice? Ma sì, come l'ho detto prima, anche più di tre. Poi Baiardo, il 17 agosto del 1993, porta in Sardegna a Graviano una valigia destinata a Berlusconi. Mi trovi un modo per dirmi quanti soldi lei ha portato a Berlusconi in nome per conto di Graviano? Glielo dico via mare, una barra. Lei ha detto alla DIA che Berlusconi era interessato ai finanziamenti della mafia per il nuovo partito, costituendo un nuovo partito. È stato totalmente finanziato dalla mafia. E non solo la mafia. Le rivelazioni di Baiardo sui rapporti fra i Graviano, Dell'Utri e Berlusconi finirono in queste due informative, tra il 1996 e il 1997. Le rivelazioni di terr49ade. Grazie per la visione!